Grazie a tutti! E' un posto ma altro che questa roba! Esatto! Prima noi che facciamo schifo e dopo gli spettacoli belli! Forza! Dai approfittate! Ancora pochi posti! Coraggio! Forza! Ancora mille spettatori e cominciamo! Dai dai! Forza! Inizia l'esperimento malvolo! Dai! Abbiamo andato pesante, scusatesi! Forza! Cade tutto! Forza! Forza dai! Se ce la prendi in mano, grazie! Forza dai! Forza! Inizia l'esperimento! Dai! Veloci! Forza! Dai! Esperimento malvolo! Un velocissimo! Un velocissimo! Forza! 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 Veloci! Non funziona! Non funziona niente qua! Vabbè dai! Attenzione! Vabbè dai! Iniziamo! Forza! Esperimento! Incredibile! Grazie! Grazie per il secondo! Ti sto liberando! Cari fratelli! Un esperimento solo! Dovete dire no! Perché uno solo! Che senso hanno le nostre inutili! Dimmi sorella! Quattro ne voglio dire! Eh no! Solo uno! Alla nostra età a quattro di fila! Sei la solita esagerata! La solita esagerata! Si si! Si fa quel che si può! Già uno è troppo! Già due! Possiamo ragionarsi sopra! Comunque ne facciamo uno solo! Basta! 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 Non essere così aggressivo! Basta! Quattro! Quattro! Non possiamo! Quattro di fila! Non ce la facciamo! Sorella! Sorella! Quanti? Uno no? Uno! Va bene uno! Vabbè! Mi riporta! Attenzione! Basta! Allora! Più rispetto che non siamo qua a dare spettacolo! Inoltre c'è i chiamati per quello eh! Scusami! Tranquillizzati! Stai calmo! Non lasciarti prendere i soldi! Sono degli stigatori! Attenzione! Iniziamo l'unico esperimento della roba la insomma! Tentamus! Che cosa facciamo? Non so padre! Facciamo la fila! Infinita! Esperimento! Eeeh! 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 Uno però fatto bene no? Sì sì! Lascia stare! Meglio uno bene che quattro! Sì! Lascia stare! Attenzione! Prendemus palmo umano! Palmo umano! Stai orizzontali! E' pure il tavolo! Ma no tu! Cristo! Il palmo! Ah così! Sì! Dall'altra parte però! Un altro! Non tu! Non tu! Il palmo! Ruotalo! 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 Sì! Sì! Ancora un po'! E' doloroso! Prova andare giù con la terra! Mi fa male! Sì! Sì! Allora abbiamo il palmo! Ma non è meglio se mi metto il gusto! Andremo a riguardo! Sì! Qualche volta con poco si fa una cosa incredibile! Bravo! Sì! E' il progresso! Il progresso! Nel medioevo bastava poco e si migliorava così! Attenzione! Il palmo è vuoto! Non c'è troppo! Non c'è inganno! Prendiamo scontini! Torre! Scontini! Torre! Mettiamo scontini! Torre! Impalmo mu! Mano! Mettiamo scontini! Torre! Che è questo! Impalmo u! Mano! Che è questo! Ho detto! Ho detto! Ho detto! Ho detto! Sì! E' intanto tu stai caldo! Allora! Sto ripetendo! Aspetta! Aspetta! Guarda tu! Ehi! Respira! Respira qua! No! E' un forte anestetico! Tu rispetta per il frate che viene con i sorridi! Ma guarda tu! Attenzione! Mettiamo scontini! Torre! Impalmo mu! Mano! L'avevo detto! Devi anche farlo! Scusami! Se non mi dici le cose! Dall'altra parte! Giralo! Non puoi stare dall'altra parte! Tu lascerai qua! Dai! Su! Basta! Dall'altra parte! Ah! Così! No! Basta parlare! Il contenitore è vuoto! Non c'è trucco! Non c'è inganno! Notaio! Confermi che è vuoto! Non guardare di che è vuoto! Non avere questo atteggiamento aggressivo! Signorina su tutto io! Mettiti in posizione di ascolto! Dai vediamo! Così! Così! Devi stare così! Alto la gamba! Così! Comunque è veramente vuoto! Non c'è troppo! Non c'è inganno! E' un po' lurido! Sono assunto! Ho incontrato formazione! Faccio quello che posso! Fa quello che posso! Comunque è veramente vuoto! Non c'è troppo! Non c'è inganno! Prima! Prima! Ready! Prima! Prima, Prima! Aspetta che lo... Meso! Prima! Prima! Quanto? Basta! Posso mettere un minimo! Quanto? Basta? Ancora un poco! Sparagnamos! Quanto? Basta! E' ancora un poco! Sparagnamos! Ah è vero! Quanto? E ancora un poco! E abbiamo! Ah è vero! E' vero! Prendiamo il primo reac, incontri, e t'avamo. Prendiamo il secondo reac, prendiamo il secondo miso. Quanto? E ancora un po'. Ah, è vero, è vero. Quanto? E ancora un po'. Ah, è vero, è vero. Versiamo il secondo reac, incontri, e t'avamo. Prendiamo un coltello, pesciamo e speriamo bene. E t'avamo. Fiazio in infinita, e che sperimento, in genere a questo punto ci sta un'applausione. Grazie per l'applauso spontanea, ripescamo sicilio, figura merdae, Eccolo, si è ripesca, miracolo. Mi sa che ho esagerato con le dosi. Mi sa che ho il braccio in cancrena. Vabbè dai, miracolo. Cari confratelli, questo è il nylon verum. Nel medioevo il nylon lo avevano già inventato. E lo producevano anche in quantità industriali. Eh, veramente? Sì, sì, sì. Solo che non sapevano ancora cosa farsene, e lo buttavano nel merdarion. Inauguramos merdarion. Versamos film in merdarion. Ehi, questo è il merdarion. Ma scusa, ma siete uguali siete? Sì, come uguali, eh? Oh, a parte gli occhiali io non vedo differenza, non so voi. Ma scusatemi un attimo, ma come a parte gli occhiali? Ma non vi sembra che, eh? Scusate, manca un piccolo particolare. Vabbè, vabbè, vabbè. Non è lui, vabbè. È lui. Vabbè dai, versamos film in merdarion. Agitamos merdarion. Previsione futuro. Merda, i totali. Bene, grazie carico fratelli. Adesso lo spettacolum di Lorenciotto. Lo spettacolo bello comincia adesso. Questo era quello schifosum, adesso quello bellum. Grazie. Grazie per l'applauso, eh? Grazie su soddisfazione. Grazie, grazie. Se volete ci sono i santini. Chi vuole i santini? Gli unici che portano sfiga. Un santino ha cent'anni di sfiga. Basta non metterli sul cruscotto. No, no, scherziamo. Chi vuole i santini? Chi vuole i santini? Grazie. Che Dio te la benedica, sorella. Che signore te lo consente. Dona in neftalina. In neftalina. In neftalina. Grazie, grazie, fratelli, grazie. Grazie.